liberi dentro eduradio e tv un ponte tra carcere e città sabato 15 ottobre bentornati e bentornata tutti i nostri teleradioscoltatori siete su liberi dentro eduradio tv la nostra trasmissione che da due anni e mezzo saluto qui con me Antonella ciao Antonella ciao Caterina ciao a tutti da due anni e mezzo Antonella siamo ponte tra carcere e città è incredibile vero ma caspita il tempo passa così velocemente che mi sembra ieri sul serio tra l'altro lo trasmetteremo abbiamo fatto un incontro con tutte le associazioni che collaborano con noi sono la nostra fonte di vita ecco da questi due anni e mezzo ed è stata interessantissima sì è stata molto partecipata infatti ne approfittiamo per salutarvi tutti grazie di essere venuti a questo incontro soprattutto ad averci dato il vostro punto di vista i suggerimenti oltre proprio alle puntate che chiaramente ci state mandando di volta in volta ma sentirvi tutti vicini è stato un momento importante vero Caterina è stato importante soprattutto perché che ne dica la cronaca purtroppo trapelano sempre le brutte notizie però abbiamo capito che il carcere a noi volontari carcerari delle miglia romagna di Bologna in particolare interessa interessa soprattutto esserci e ci interessa soprattutto a noi di eduradio raccogliere nuovi stimoli sì infatti e poi diciamo anche che siamo stati accolti in un posto molto bello ed importante che è casa corticella una casa di accoglienza e che alla fine della giornata della serata vorrei dire le persone accolte appunto da a casa corticella hanno cucinato per noi cioè hanno veramente condiviso il pasto ma anche proprio preparato il pasto per noi che eravamo andati per la per questo incontro è stato veramente un momento molto bello è stato molto bello ricordo che casa corticella dedicata a don giuseppe nozzi si trova in via del tuscolano 99 a Bologna e da quest'estate accoglie i detenuti insieme in semilibertà e in misura alternativa alla pena come dicevi tu è stato un incontro importantissimo interessantissimo e pensa tanto nella cioè la rubrica che segue è proprio di marcello matte che è il cappellano del carcere dozza di Bologna che è stato anche il propulsore di questa iniziativa di casa corticella vicino al carcere dozza di Bologna per chi non lo sa marcello matteo oltre a essere il cappellano del carcere è anche una persona molto molto stimolante ecco sia su ciò che riguarda la musica perché suona la chitarra divinamente e da due anni e mezzo con noi ha una rubrica che si chiama le parole della parola dove lui di volta in volta in maniera laica secondo me parla di vangeli e la frase che lui commenta oggi per noi è tratta dal vangelo di matteo al capitolo 7 versetto 21 in cui dice non chi dice signore signore entrerà nel regno dei cieli capiamo il significato insieme a marcello matteo a te la parola la parola di oggi è non chi dice signore signore entrerà nel regno dei cieli quali atteggiamenti adimira gesù sta criticando gesù con questa espressione non chi dice signore signore entrerà nel regno dei cieli ma chi fa la volontà del padre mio è una delle espressioni che si trovano in chiusura del grande lungo discorso della montagna con il quale gesù inaugura secondo l'evangelista matteo la sua predicazione con questa espressione gesù vuole invitarci a una religiosità fatta non tanto di parole moltiplicate di parole ripetute senza cuore ma vuole invitarci a un rapporto diverso con dio anzi ha un'immagine diverse di dio non più un dio che esige culti e preghiere ma un dio che vuole da noi il cuore e vuole soprattutto la conversione del nostro cuore perché il nostro cuore sia pieno di vita non sia pieno di parole quindi anzitutto gesù con questa espressione chiede a noi la religiosità del cuore ma c'è anche un'altra meta che gesù ha in mente nel momento in cui ci dice queste parole e cioè il voglio da noi una religiosità fatta non soltanto di cuore fatta soltanto di buoni sentimenti ma che sia fatta anche di opere di azioni di scelte questa espressione non chi dice signore signore entreranno nel regno dei cieli continua dicendo ma colui che fa la volontà del padre mio quindi colui che mette in pratica la l'atteggiamento nuovo che gesù viene a sollecitare in noi come volontà del padre risponde alla volontà del padre che vuole che ci amiamo come fratelli che vuole che lo amiamo con tutto il cuore che amiamo il prossimo nostro come te stesso come se stessi questo monito di gesù vuol dire allora che dobbiamo abbandonare le preghiere imparate a memoria i riti con i quali rendiamo culto a dio settimanalmente o quotidianamente gesù non vuole complicarci la vita non vuol dire che non hanno valore le preghiere che abbiamo imparate magari fin da bambini a memoria anzi è gesù stesso che ci insegna a pregare dio padre con la con la preghiera del padre nostro con la preghiera che la chiesa ci invita a ripetere almeno tre volte al giorno ed è la chiesa che nella sua compassione e nella sua atteggiamento benevolo verso di noi che ci aiuta come una madre il proprio figlio ci aiuta a trovare le parole perché sappiamo rivolgerci a dio dando voce ai nostri sentimenti al nostro cuore non sempre queste parole noi riusciamo a tirarle fuori da noi stessi per cui le parole che la chiesa ci insegna ci fanno da guida ci sono dei suggerimenti che la chiesa ci dà perché noi possiamo trovare le parole per rivolgerci a dio e dio stesso fra l'altro che nella preghiera dei salmi ci presta le parole perché noi sappiamo rivolgerci a lui con le parole che lui stesso ci ha suggerito quindi che sappiamo che sono parole a lui gradite hanno sempre valore queste parole hanno valore i nostri rosari le nostre preghiere ripetute quando le diciamo con il cuore quando sono una riconoscimento davanti a dio come se dicessimo guarda io non so inventarti le parole per dirti quel che mi porto dentro mi fido delle parole che la chiesa mi presta che tu stesso mi hai prestato per dirti i miei stati d'animo per dirti le mie necessità per dirti il mio cuore di figlio sappiamo che il signore ascolta sempre le nostre preghiere anche se ripetitive quando sono fatte col cuore ci sono altri insegnamenti che si possono ricondurre a questo monito di gesù sì ve ne sono alcuni che riprendono letteralmente questa stessa espressione altri che richiamano lo stesso contenuto per esempio luca introducendo la parabola della casa costruita sulla roccia o sulla sabbia cita questa stessa espressione non basta dire signore signore ma bisogna mettere in pratica la parola che abbiamo ascoltata bisogna mettere in pratica la volontà del padre se non mettiamo in pratica la volontà del padre siamo parole al vento siamo come quelli che costruiscono la casa sulla sabbia se invece noi diamo seguito obbediente alla parola che abbiamo ascoltata e non ci limitiamo a invocare il nostro padre con l'espressione signore signore ma mettiamo in pratica osserviamo la sua parola facciamo della sua parola la nostra vita allora siamo come coloro che costruiscono la casa sulla roccia matteo in un altro passaggio del suo vangelo dice se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te lascia il tuo dono davanti all'altare va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono il concetto è simile gesù ci parla di un dio che non è preoccupato tanto di ricevere le nostre preghiere le nostre offerte ma che è preoccupato anzitutto che noi andiamo d'accordo tra fratelli che noi ci amiamo come fratelli non vuole da noi le nostre parole i nostri riti vuole da noi che le nostre parole siano parole di carità verso il nostro prossimo che ci dedichiamo con tutto il cuore a fare del bene al nostro prossimo a esercitare la misericordia cercare di andare d'accordo addirittura dice gesù in questo messaggio non mi importa che tu venga a presentare la tua offerta all'altare se non sei d'accordo con il tuo fratello se non sei in pace con i tuoi fratelli questa viene prima del sacrificio questa cerca prima nella tua vita poi viene offrire il tuo sacrificio allora le tue parole non saranno vuote i tuoi sacrifici non saranno esteriori ma porteranno a dio il tuo stesso cuore in un'altra espressione matteo dice di andati a imparare che cosa voglia dire misericordia io voglio e non sacrifici siamo in un invito molto simile il padre non vuole da noi tanto i sacrifici non vuole i nostri riti non vuole le nostre offerte non ne ha bisogno invece ha tanto bisogno che noi si vada d'accordo che ci sia misericordia tra di noi che ci sia benevolenza che ci sia compassione che ci amiamo gli uni gli altri così come lui ha amato noi chi sono i destinatari di questo invito di gesù i destinatari di questo invito di gesù sono le folle che lo stavano ascoltando in quel momento su quella montagna ed è un messaggio destinato a loro perché anzitutto vuole essere un messaggio di liberazione gesù vuole liberare quelli che lo stavano ascoltando da una religiosità predicata dagli iscrivi e farisei e fatta di osservanza scrupolosa fatta di questa ossessione di mettere in pratica norme regole e mettere in pratica riti ripetitivi fatti di osservanza scrupolosa di parole e di gesti non è di questo che ha bisogno il nostro cuore non è di questo che ha bisogno il nostro dio che è padre e gesù vuole liberarci da questa religiosità ed è per questo che le parole che gesù rivolge su quella montagna colpiscono sì gli iscrivi i farisei e coloro i quali insegnavano una religiosità tutta fatta di gesti di riti ripetitivi ma raggiunge anche noi perché anche noi abbiamo bisogno di essere liberati da questa tentazione da questa tentazione di vivere il nostro rapporto con dio come se fosse un rapporto commerciale io ti do preghiere e tu mi doni le tue grazie nei tuoi le cose di cui ho bisogno non è così che il nostro rapporto con dio dio ci dona con sovrabbondanza molto di più di quello che noi possiamo domandare però chiede a noi il cuore che da noi una preghiera fatta non di parole ripetute ma fatta di questa amore che ci portiamo dentro di cui siamo capaci e fatta anche di amore per il prossimo fatta di scelte fatta di azioni di carità e questo è un rischio che corriamo sempre anche tutti noi quello di farci prendere da una religiosità esteriore di moltiplicare i riti di moltiplicare le devozioni di moltiplicare le parole gesù ci dice non fate come gli iscrivi i farisei o come i pagani che credono di essere ascoltati a furia di parole non sia così tra voi ma quando volete pregare dio dite semplicemente padre e dopo aver ascoltato marcello mattè ritorniamo ad un ad un incontro che abbiamo avuto a fonte vivo e proprio per parlare di dipendenza dal gioco e anche la sindrome della disconnessione gambling gaming appunto un'omofobia come vi stavo dicendo per dare la parola in realtà a zona franca che ha creato che ha prodotto questo spettacolo teatrale che si chiama alzardopoli zona franca è un'associazione di promozione sociale di parma che con franca tragni armanda borghetti e giulia canali presentano affrontano tutta una serie di tematiche sociali e le fanno diventare delle piste atrali ma ascoltiamo esattamente che cosa ci dice armanda che ci presenta l'associazione e lo spettacolo a zardopoli zona franca è un'associazione di promozione sociale che è nata nel 2008 con l'obiettivo di fare attività teatrale con il preciso scopo di diffondere tematiche di rilevanza sociale e diciamo in questi 12 anni 14 anni ormai non ricordo neanche più quanti anni sono passati abbiamo attraversato diversi attraverso i nostri spettacoli abbiamo trattato tante tematiche il primo spettacolo che abbiamo che ha debuttato al teatro europa nel 2008 era uno spettacolo che trattava perché noi prendiamo i temi sociali li sviluppiamo sempre al femminile noi siamo tutte donne nella nostra associazione quindi abbiamo questo questo filo conduttore che lega tutti i nostri spettacoli è la tematica sociale e l'approfondimento al femminile quindi abbiamo il primo spettacolo era a servizio e quindi trattava dell'immigrazione femminile e partiamo un tema che ricorre sempre nei nostri spettacoli anche il tema della memoria infatti noi partiamo sempre dal passato e quindi per attraversare arrivare al presente infatti in questo spettacolo ne siamo partite dalle donne delle nostre diciamo delle nostre terre quindi che dalle campagne migravano verso le città quindi nel tra la cavallo tra le due guerre e poi siamo arrivati a trattare il tema quali sono le donne 70 anni fa alla fine dello spettacolo noi diciamo 70 anni fa i migranti eravamo noi e quindi diciamo poi abbiamo attraversato il tema delle mafie e abbiamo diciamo abbiamo collaborato con tante associazioni quindi abbiamo collaborato con libera abbiamo collaborato anche con la prevenzione dei dei tumori e quindi abbiamo con la Lilt abbiamo fatto uno spettacolo sulla prevenzione dei tumori a Sena prima di prima che sia troppo tardi prima di tutto e poi siamo arrivati anche a costruire dei abbiamo lavorato con Chuck e quindi abbiamo costruito uno spettacolo in alto mare con dei ragazzi richiedenti asilo e insieme a loro era diciamo un progetto del comune sui diritti e noi abbiamo lavorato sul diritto all'accoglienza e con Chuck abbiamo costruito anche un rapporto poi umano bellissimo con questi ragazzi richiedenti asilo e noi diciamo che siamo diventate le zie e diciamo che quindi arrivando all'asl e con la collaborazione con l'asl violenza di tema della violenza di genere con amor mio e questo tema sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico dopo aver ascoltato Armanda Borghetti chiediamo a Franca Tragni come nascono gli spettacoli che producono studiano scrivono come si fa a immaginarsi uno spettacolo teatrale Tutti i nostri spettacoli nascono cioè c'è prima tutta una fase di studio lo studio avviene sui libri ci documentiamo articoli di giornale tutto quello che è possibile noi lo studiamo Armanda e Giulia sono anche andate ad un incontro di giocatori anonimi infatti due delle testimonianze che voi sentite durante lo spettacolo sono proprio elaborate da uno di questi incontri Ecco poi cominciamo a come dire a mettere giù le idee è un lavoro sempre collettivo anche se io Giulia facciamo la regia comunque sempre un lavoro molto corale molto di insieme e dopo la prima fase di studio c'è appunto la come dire la stesura di un copione che non è mai definitivo perché comunque siamo molto meticolose quindi fino all'ultimo anche proprio durante le repliche a volte ci viene da cambiare le cose e aggiungere esatto e poi c'è questa cosa meravigliosa che è comunque l'aggiornare perché ahimè i dati cambiano continuamente quindi siamo sì insomma stiamo molto attenti anche al tempo che passa le cose che cambiano A questo punto dopo le parole di Franca Tragni guardiamoci un piccolo spezzone di Azzardopoli nell'attesa di trasmetterlo integralmente appena possibile Benvenute e benvenuti a Dazzardopoli il paese del gioco d'azzardo Rien va plus si punta e si vince Prego signore e signori fate il vostro gioco A Dazzardopoli A Dazzardopoli 17 milioni di persone hanno giocato d'azzardo nel 2017 più di un milione sono giovani dai 15 ai 19 anni Per lo più sono giocatori sociali per loro giocare non è un bisogno solo il 2% di questi giocatori diventerà un giocatore patologico o compulsivo 400 mila i giocatori a rischio severo in Italia 70 mila in Emilia Romagna Sono più di 4300 i giocatori in carico ai servizi per le dipendenze in Emilia Romagna E udite udite con un fatturato di oltre 110 miliardi di euro nel 2019 quella del gioco d'azzardo è la terza impresa italiana primo posto in Europa Sì perché 110 miliardi di euro è una cifra molto superiore a quello che si spende in Italia per la cura e l'istruzione Ma chi ci guadagna dal gioco d'azzardo? Ma lo Stato naturalmente E soprattutto le mafie Sì perché visto che il gioco nuoce gravemente alla salute lo Stato deve coprire le spese sociali per la cura e la prevenzione alla ludopatia Ma attenzione attenzione Ad azzardopoli è arrivata la giostra Nomofobia Una grande ruota panoramica adatta a tutti quelli che soffrono della sindrome da disconnessione Sono già saliti in tanti tantissimi da tutto il mondo Una ruota panoramica sulla quale è facile salire ma è difficile scendere È perfetta per te Per te Per te che se senti questo suono Comincia a respirare affannosamente Per te che se vai in montagna e non c'è il wifi non riesce a goderti il panorama perché non puoi fotografarlo e condividerlo immediatamente per te che controlli il tuo cellulare ogni cinque minuti sperando che ci sia qualcosa e se non c'è niente l'importante è essere connesso sei connesso sei online allora esisti per te che un like in più ti addrizza la giornata per te che una notifica è molto meglio di un panino alla nutella e dell'abbraccio di un amico per te che non esci mai di casa senza il tuo carica batterie non sia mai che si scarichi il cellulare sei connesso sei online allora esisti per te che anche se non sei felice nel tuo selfie sorridi e allora cosa state aspettando mettete di fila con i vostri tablet e smartphone non abbiamo limiti di età di altezza e follower tutti possono salire ma non tutti riescono a scendere a voi la scelta testa chini in un altro mondo occhi aperti ma chiusi dito che scorre scorre il dito scorre il metti like metti like metti like lascia un commento selfie sorridi metti filtro correggi luminosità e contrasto condividi rispondi a pietro rispondi a maria scrivi su un gruppo fai una storia geocalizzati condividi testa chini in un altro mondo occhi aperti ma chiusi salgo sull'autobus alzo lo sguardo non c'è posto abbasso lo sguardo scorre il dito scorre il dito scorre 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 gente parla sento ma non ascolto mi chiama mia madre sì ma sì sto tornando a casa stai calma sono andata a prendere un gelato con le altre metto giù tic toc rido ma senza ridere rido dentro metto emoticon ma la mia faccia non cambia condividi forse è la mia fermata scendo non alzo lo sguardo nemmeno per il gradino schivo tutto senza guardare scorri dito scorri dito scorri 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 metti like metti like lascia commento suono salgo scorro dito entro in casa non saluto metto like mi siedo sul divano accendo la tv scorro dito lascio commento è pronto urla mia madre sì arrivo no io mangio dopo questo è mio fratello ha 15 anni non cena con noi da una settimana mia madre me la mena per i tic toc ma lui non dice nulla che sempre lì con quel coso in mano a sparare i nemici spara spara ricarica spara spara lo sgrida solo se troppo tardi e urla poi però gli dà la carta di credito per comprare uibec e superare i livelli anche il papà si arrabbia ma poi non gli dice nulla almeno lui gioca con i suoi amici dice ma cosa vogliono saperne loro che sono sempre fuori per lavoro poi i suoi amici secondo me non sa neanche chi sono si chiamano con quegli stupidi nomi ultra world futura tretron roba da maschi io non so cosa ci trovi di bello lì dentro sempre davanti a uno schermo con le cuffie a parlare da solo ad affrontare sfide solo con un obiettivo rimanere l'ultimo sopravvissuto l'ultima domanda la facciamo all'attrice giulia canali e le chiediamo che cosa significa lavorare in una compagnia di sole donne che cosa vuol dire fare parte di una compagnia di sole donne vuol dire famiglia solidarietà e ascolto noi siamo come dicevano le mie colleghe da tanti anni che lavoriamo insieme ci siamo trovate e anche alla fine scelte e siamo cresciute insieme sia professionalmente che anche come legami e come intreccio per me è molto importante perché c'è uno sguardo molto di cura ecco e questo qualche volta manca in giro e in altri gruppi dove ho avuto la fortuna di lavorare con Zona Franca e con queste donne appunto oltre all'amicizia questo sostegno ecco un sostegno e un'accettazione che insomma fa sempre piacere avere un po' come una famiglia vi vogliamo salutare a tutte e tutti che ci state seguendo e un saluto grande ciao grazie grazie ciao grazie a tutti e dopo questo servizio nuovo a Zardopoli scriveteci cosa ne pensate redazione liberi dentro chiocciolagmail.com vi ringraziamo vi ringraziamo per il vostro ascolto e la vostra partecipazione a Edu Radio e vi ricordiamo il nostro appuntamento sempre a domani stessi orari stessi canali Radio Città Fugico, Lepida TV e Icaro TV e un saluto da me da Antonella e Nea Flacco, Diana Bota e Paolo Aleotti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti